Oggi abbiamo 353 amici, iscriviti e se vuoi invia una foto all'indirizzo in descrizione e verrà pubblicata e sarai menzionato come uno dei nostri grandi amici. Frase giornaliera, amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Ieri, usare olio extravergine, cos'è quella cosa che più ce n'hai meno vedi, e ora sigla. Mi chiamo Miss Famesap e sono felice di averti nel mio canale. Noi trattiamo il news, gossip, ultime notizie, i reality come GF Vip, Isola dei famosi, Temptation Island, Uomini e donne eccetera. Pubblichiamo tutti i giorni se ti interessa torna a trovarci e ti aspettiamo. Ora pubblicità che fa bene al cuore e alla fine l'elenco degli amici che hanno inviato la foto. Ciao! 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 amica o amico! Ti va di guardare altri video click sul filmato scelto. Se ami il gossip in social noi pubblichiamo video tutti i giorni. è stato un piacere averti qui, torna a trovarci e ti aspettiamo. Noi, ciao! Ciao! Ciao!